Blando minimo relativo tra il Mar Ligure e il Mar di Corsica e il Tireno settentrionale, dalle prossime ore tendenza ad aumento della pressione. In Toscana, mercoledì 4 novembre, in prevalenza molto nuvoloso, con possibilità di isolate piogge, più probabili in appennino nel pomeriggio. Venti deboli da sud-sud-est, tendenti a disporsi da nord-est dalla tarda serata, mari poco mossi, temperature in calore minime, stazionari e le massi. Sul territorio provinciale da coperto, con locali deboli piogge, fino a nuvoloso. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 13, massima 19 gradi. A Castelnuovo-Garfagnane, zone montane, minima 12, massima 18. A Biareggio sul litorale, minima 15, massima 18 gradi. Giovedì poco nuvoloso, con temperature dal di sopra delle medie stagionali.